Ciao a tutti ragazzi, allora, oggi riprendiamo il nostro Shin Megami Tensei, ovviamente riprenderemo dal punto che avevamo lasciato Controlliamo tutti i nostri personaggi, ci siamo, perfetto, direi di andare Ok, non, si, non prendiamo la ricotta che ci sono No, 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 no. 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 I'm over there. I'm over there. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hmm, simpatici. Ma perfetto, abbiamo livellato, ottimo. Perfetto, abbiamo preso il soffio di fuoco, per firepress e via. Ok, siamo tornati all'inizio, quindi possiamo anche tornare indietro. Direi di andare anche a curarci e salvare la partita, ci conviene. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Ok, abbiamo scoperto l'itilevano solo Ok, questo è il motivo di perdere tempo Beh, curarti non serve molto No, possiamo fare un po' a DPX, se ci piace Ok, vediamo la scoperta Ok, vediamo la scoperta Questa è la scoperta No, 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 no. Non scolugniamo alla stretta? Ok. Non scolugniamo alla stretta? Ok. Non ci abbiamo tantissime di figli. Direi di utilizzare le scale. Non scolugniamo alla stretta? 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 Non scolugniamo alla stretta。。 Guarda... Oh 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 oh... Guarda! Si ricorda di capire se ti fa vedere le ali o il fuoco. Comunque... Questo è un veranato, benissimo. Fiamo sciopata. E' un Paralise, si. Vai, Spendon. Benco. Oh, oh, oh. Mi raccomando, Benco. Non male. No, 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 no. E' l'unica strada che mi fa. E' un'altra sola. Fai un'altra sola. E' l'unica strada che mi fa. No, non, 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 non. Non, 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 non Grazie a tutti. 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 c'è un po' a tutti. 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 a tutti.